Correva l'anno 1986. Il Tribunale di Milano condanna all'ergastolo mitire Sindona quale mandante dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli. John Lasseter, grazie a un contributo di capitale da parte di Steve Jobs, fonda la Pixar. L'Unione Sovietica finisce l'assemblaggio e vara ufficialmente la stazione spaziale Mir. A causa di un test di sicurezza dell'impianto mal gestito, la centrale nucleare di Chernobyl subisce un fallimento catastrofico. Fino a poco tempo fa questa era considerata la cosa peggiore mai successa in Ucraina e Steve Jackson stava per introdurre un nuovo paradigma nel gioco di ruolo che però non era destinato a durare. Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Ultimo video dell'anno come la tradizione destinato alla lezione in storia e questa settimana andremo a parlare non solo di un gioco di ruolo estremamente famoso ma anche di quello che è il simbolo di un'intera categoria di giochi che oramai è caduta nel dimenticatoio. Il titolo del video l'avete visto, stiamo ovviamente parlando di GURBS ma prima di parlare del gioco bisogna prima parlare del suo autore che è una leggenda all'interno di quello che riguarda il mondo del game design, cioè Steve Jackson. No, l'altro Steve Jackson. Perfetto. Sì, in effetti le ricerche per questo video sono state complicate dal fatto che esistono due famosi designer di nome Steve Jackson ma di uno di loro abbiamo già parlato perché è uno dei due fondatori da Game Workshop, ci abbiamo fatto anche un video, ve lo lascio qua sopra. Questa settimana invece andremo a parlare dell'altro. Jackson apparteneva alla prima generazione dei giocatori di ruolo, quelli dell'originale Dungeons & Dragons o di Thanos & Troll, stiampando di quel periodo, ma era anche personalmente un appassionato di rievocazione e di scherma medievale e riteneva che il combattimento per come fosse gestito dalle regole dei giochi del suo periodo non fosse abbastanza profondo e sicuramente non fosse abbastanza verosimile. Ancora oggi infatti D&D gestisce combattimenti in una maniera particolarmente astratta in cui esistono tiri per colpire e punti ferita che è qualcosa ovviamente di estremamente lontano da come funziona un combattimento reale. Jackson sviluppò quindi un suo sistema che poi si concretizzò nel 77 in un gioco da tavolo in realtà chiamato Melee che venne pubblicato per Metagaming Concept in cui ogni giocatore doveva creare il suo gladiatore partendo da tre valori fondamentali, forza, destrezza e equipaggiamento. Per mantenere il bilanciamento tra i vari giocatori il totale di forza, destrezza ed equipaggiamento non poteva superare i 24 punti quindi ogni giocatore doveva alzare o abbassare le caratteristiche per come avrebbe preferito personalizzare il suo personaggio ma restando all'interno di questo limite in modo che tutti i gladiatori fossero almeno in linea teorica forti uguale. Tra l'altro questa è la prima implementazione di quel sistema che adesso noi chiamiamo il point buy che è uno dei metodi alternativi più diffusi per generare le caratteristiche quando non lo si vuole fare tirando dei valori casuali. In Melee per decidere se un'azione aveva successo o meno bisognava tirare tre dadi da sei e ottenere un risultato inferiore a quello che era il valore di riferimento a cui quella mossa era associata. Ricordatevelo perché ci ritorneremo dopo. Jackson continuò a lavorare per metagaming concept ancora per qualche anno ma poi sorsero dei dissidi su come i suoi lavori venivano gestiti quindi nel 1980 la lasciò per creare la sua ditta col blackjack e le squillo di lusto la steve jackson games. Ora sulla steve jackson games bisogna fare un video di storia a parte perché non è solo una delle prime casa di sviluppo che ancora sopravvive ma ha avuto anche un enorme successo quasi sicuramente avete giocato qualcosa e pubblicato a loro per citarne uno solo su tutti Munchkin il gioco di carte lo fa la steve jackson games. Per quanto riguarda noi e questo video diciamo soltanto che steve jackson adesso che era improprio nel corso degli anni continuò a lavorare e rifinire il sistema di melee convinto che se ne potesse tirare fuori un intero gioco di ruolo. Nel 1985 pubblicò man to man che era un altro gioco da tavolo di combattimento se volete una seconda incarnazione di melee in cui venivano introdotte due nuove statistiche l'intelligenza che governava tutti gli aspetti psicologici del personaggio e la salute che era in pratica qualcosa di assimilabile ai punti ferita. Questo era presentato come un gioco a sé stante ma in realtà serviva come base perché era il sistema di combattimento scorporato di quello che pochi anni dopo uscì proprio come GURPS che sta per Generic Universal Roleplay System o se preferite in italiano sistema universale generico per il gioco di ruolo. Anche in GURPS c'era lo stesso sistema di statistiche e ogni giocatore poteva creare liberamente il proprio personaggio aggiungendo o togliendo punti da ogni statistica fin tanto che la somma totale rimanesse all'interno del valore che era stato concordato in base a quella che era pensata essere la difficoltà della quest. In pratica sì, effettivamente era una riedizione di Melee come gioco di ruolo. GURPS ebbe immediatamente un grande successo all'interno di quello che era ancora il ristretto mondo del gioco di ruolo perché faceva leva su due aspetti fondamentali che venivano tralasciati alla maggior parte degli altri giochi di ruolo dell'epoca. Il primo era proprio la sua attinenza con la realtà. Il sistema di GURPS era pensato per ricreare in gioco situazioni molto verosimili e le regole permettevano di gestire il mondo di gioco in una maniera molto simile a quella con cui funziona il mondo reale cioè in maniera diametralmente opposta da quella che era l'attrattismo di D&D e questo era qualcosa che molti giocatori dell'epoca ritenevano fosse una grossa pecca per il gioco di quella che all'epoca era ancora la TSR. L'altro, e probabilmente il più importante, è che GURPS si proponeva proprio come un sistema generico non legato a un tipo di gioco specifico. In pratica la promessa che GURPS faceva all'epoca era quella che un master che si fosse comprato e studiato GURPS non avrebbe mai più dovuto comprare e studiare nessun altro gioco di ruolo perché qualunque fosse la quest che da lì in avanti avesse voluto masterare avrebbe potuto farla con GURPS e solo con il materiale di GURPS. Sulla carta questa sembra un'ottima idea e immagino che molti dei più giovani tra di voi che stanno guardando sto video in questo momento stanno pensando che sì, è esattamente quello che mi servirebbe perché andare a spendere soldi in caterve di manuali che poi tanto i giocatori non vogliono mai imparare nuove regole vogliono sempre giocare alla stessa cosa un unico gioco per giocare per il resto della vita è esattamente quello che mi serve. Ecco, con 40 anni di senno di poi alle spalle possiamo dire che forse questa idea non era così buona come sembrava. Allora, intendiamoci non si tratta di un problema di design Jackson e la sua squadra fecero un lavoro ottimo anzi, ancora oggi GURPS è ritenuto da questo punto di vista uno dei sistemi più stabili in assoluto ed è particolarmente apprezzato proprio a tutti quei giocatori che cercano di aumentare al massimo gli elementi di simulazione e di verosimiglianza all'interno del proprio gioco. Il problema era intrinseco nell'idea di gioco di ruolo che loro stavano sviluppando e che all'epoca non poteva essere evidente per via dell'ancora veramente scarsa diffusione del gioco di ruolo. C'era proprio poca gente che giocava e quindi c'erano pochissimi dati a disposizione. Ma il motivo per cui attualmente noi abbiamo tantissimi regolamenti, ogni ambientazione ha un suo regolamento specifico e anzi, possono esserci ambientazioni che hanno vari regolamenti diversi dedicate solo a quelle. Pensate anche solo a Star Wars D20 e Star Wars D6 due regolamenti estremamente diversi dedicati entrambi allo stesso universo narrativo. Questo è dato al fatto che le regole vanno a influenzare non solo il tipo di storia che viene raccontato ma anche il modo in cui questa storia viene raccontata. Quindi, per via della sua stessa natura, per quanto in GURPS sia possibile giocare qualsiasi tipo di ambientazione e buttare dentro qualunque tipo di storia, per via della sua stessa natura tutte queste storie dovranno essere estremamente verosimili e che mettano un particolare focus sulle singole azioni del singolo personaggio. La classica sequenza da film d'azione in cui il protagonista tratta una ferita d'arma da fuoco come se fosse un ginocchio sbucciato e poi abbatte tre nemici con due colpi che è la base di qualsiasi storia venga ambientata in un D20 system ecco, in GURPS semplicemente non è possibile. Ovviamente GURPS ha poi previsto tutta una serie di adattamenti, regole alternative e modo di espansione per ovviare a questo problema, né che sono rimasti a mettersi le mani nei capelli. Quindi, volendo, esistono delle regole per variare il sistema di GURPS e adattarlo a gestire ambientazioni particolari che trattino tipi di gioco e temi particolari. Questo di per sé però paradossalmente diventa uno svantaggio perché il vantaggio di avere un sistema di gioco di ruolo generico universale è quello che il master poteva gestire qualunque tipo di storia imparando solo un singolo regolamento. Ma se adesso per ogni regola esistono varie incarnazioni e il master, prima di iniziare anche solo a scrivere la quest deve andarsi a scegliere tra tutte le possibili varianti delle regole quali sono quelle che lui vorrà implementare per quella specifica quest a questo punto non dovrà imparare un solo regolamento ma dovrà impararne ancora di più perché anche quelle regole che non c'entrano in quello che vuole masteriare lui dovrà comunque impararle perché sono in mezzo a tutto il resto del materiale che potrebbe servirgli. GURPS in pratica era diventato non un gioco di ruolo ma una specie di linguaggio di programmazione per giochi di ruolo da cui ogni master doveva inserire le variabili che preferiva per crearsi il proprio gioco di ruolo. A questo punto il master non solo ha pagato vari manuali di gioco di ruolo ma deve poi mettersi di persona a fare game design per creare fuori il gioco che gli serve. Ma a questo punto dovendo spendere soldi in vari manuali dovendo perdere tempo a imparare vari manuali diventa molto più economico e conveniente che il master compri tanti sistemi diversi già ottimizzati per uno specifico tipo di narrativa da dei designer che probabilmente ne sanno molto più di lui su come si scrive un gioco di ruolo. Tra l'altro l'esistenza di tante varianti per ogni regola che esistono nel gioco contemporaneamente causa anche una grande confusione per i giocatori soprattutto quando al tavolo sono presenti persone che hanno giocato già a GURPS ma usando implementazioni diverse delle regole. Può diventare estremamente scomodo anche solo ricordarsi non quale sia la regola giusta ma quale sia la regola che sta venendo utilizzata per questa specifica sessione ovviamente aumentando la confusione dei giocatori allungando i tempi per andare a fare i controlli e a cascata tutti i problemi che vengono fuori quando si ha a che fare con un regolamento particolarmente ingombrante. Questo non vuol dire che GURPS sia un totale fallimento anzi viene ancora tutt'oggi usato e come ho detto all'inizio per gestire qualcosa di estremamente verosimile è un ottimo regolamento e se il master e i giocatori si impegnano a imparare bene a regole è anche estremamente scorrevole però è anche il motivo per cui al giorno d'oggi questo tipo di regolamenti sono semplicemente caduti nel dimenticatoio l'idea di avere un grande gioco di ruolo universale fondamentalmente scomparsa intorno al 2000 adesso ci si focalizza sul creare regolamenti che vadano a rendere uno specifico tipo di gioco molto bene al tavolo a discapito degli altri e poi ogni master sceglierà lo specifico gioco che gli serve per quella specifica storia anzi forse adesso si sta cominciando a verificare la tendenza contraria cioè che i regolamenti diventano sempre talmente più specifici da rendere difficile anche per master e giocatori inserirci qualcosa di loro però diciamo che questa è un'altra storia magari per un altro video in Italia GURPS non è arrivato fino al 1993 quando la DAS Production non ha tradotto il manuale base di quella che era la terza edizione e le sue sei espansioni fondamentali GURPS Fantasy GURPS Arti Marziali GURPS Conan GURPS Magic GURPS Space e GURPS Cyberpunk e su GURPS Cyberpunk è sempre girata una leggenda che in realtà facendo le ricerche per questo video ho poi scoperto essere vera nel 1990 gli uffici della Steve Jackson Game subirono una retata da parte dei servizi segreti americani che portarono via vari computer stampanti e tutto il materiale riguardante proprio GURPS Cyberpunk ora all'epoca girò la voce che questo fosse dato al fatto che in realtà alcune delle armi fantascientifichi che erano descritte nel manuale esistevano veramente come armi segrete altri dicevano che no alcune delle cospirazioni internazionali che erano messe come esempio nel manuale in realtà fossero cospirazioni vere nella realtà semplicemente uno dei dipendenti della Steve Jackson Games era stato implicato in un'inchiesta per degli attacchi di hacker ai danni di una compagnia dei telefoni e quello fu un modo decisamente poco ortodosso alle forze dell'ordine per cercare di recuperare delle prove perché la realtà è molto più noiosa di quello che ci inventiamo nei giochi di ruolo c'è però da dire che questo evento ha poi avuto rilevanza perché il dipendente alla fine fu riconosciuto innocente tutto il materiale fu restituito ma fu anche riconosciuto che quello non era un modo effettivamente corretto per acquisire prove da parte delle forze dell'ordine la Steve Jackson Games ovviamente fece causa e la vinse e questo fu uno dei primi atti che portarono alla creazione di quelle che sono le leggi sulla privacy che governano il mondo ancora tutt'oggi quindi diciamo che c'è stato un lieto fine se volete metterlo da questo punto di vista la storia comunque all'epoca fece molto scalpore fu la base di incredibili di cospirazioni paranoiche all'interno del mondo del gioco di ruolo ora non voglio dare spazio ai mitomani ma se avete 35-40 anni probabilmente questo è l'evento alla base di molte delle teorie più assurde che avete sentito e che no ovviamente non erano vere se siete rimasti incuriositi dal gioco una versione light del regolamento una versione ridotta che contiene solo le regole essenziali è possibile scaricarla anche in italiano direttamente sul sito della Steve Jackson Games vi lascio il link qui sotto magari dateci un'occhiata e possiamo dire che per questo video è tutto e con questo finisce anche il 2023 per il canale del Master K quindi noi ci rivediamo settimana prossima con il primo video del 2024 io vi auguro un buon anno e adesso la parola passa a voi scrivetemi nei commenti qui sotto se voi giocate a GURPS se vi è piaciuto se avete giocato a altri giochi o ruolo generici e se siete riusciti a farli girare o meno come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che dovrà crescere il canale iscrivetevi e suonate la campanella se volete ricevere notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link dei social del canale dove metto io manualmente le notifiche quindi siete sicuri che vi arrivano io sono il Master K e noi ci vediamo nel prossimo video 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 e noi ci vediamo nel prossimo video